Allora, metto in chiaro una cosa, per quanto riguarda vegetariani, vegani, eccetera, eccetera, mi state tanti scrivendo che i vegetariani non mangiano il pesce, e vi do ragione, nel senso che i vegetariani, i vegetariani non mangiano il pesce, poi ci sono i pesciatariani, i pesciariani, non mi ricordo com'è che si chiama, che è della categoria di cui facevo parte io, ma sto assolutamente smettendo di mangiare il pesce, perché si fa per gradi, no? Allora vi racconto un po' qual è la mia storia. Io sono stata vegetariana quando avevo 14 anni, però il pesce non lo mangiavo all'inizio, poi dopo, quando ho avuto 17 anni, sì, 16 e mezzo, 17, siccome ero abbastanza grossa, sono andata da una dietologa, dietologa che comunque è delle mie, abita qua vicino a me, e viene gente anche da tutta Italia per andare da lei. Lei è vegetariana, come me, e quando lei mi ha fatto la dieta, mi ha detto che comunque il pesce a quella età lì dovevo mangiarlo, quindi è di smettere quando me la sarei sentita io di smettere. Quindi praticamente così ho dovuto riprendere a mangiare il pesce. Adesso ho deciso proprio di togliere del tutto, nel senso che io ho cominciato togliendo il polipo, perché a me il polipo è buono, però mi fa senso come animale, come pesce mi fa senso, tutti quanti quei tentacoli mi fanno un po' senso, e quindi ho, piano piano, ho cercato di smettere. Fino a che, da più o meno due o tre giorni fa, ho detto adesso smettiamo del tutto. Poi per quanto riguarda la dieta, il fatto che io mangio i legumi, io si mangio i legumi, ma non potrò mai diventare vegana per il semplice fatto che io non riesco a privarmi del formaggio. Ce l'avevo provato tempo fa, ma non ci sono riuscita. Poi c'era a dire che i vegani non mangiano il pane che mangio io, cioè loro mangiano un altro tipo di pane, un altro fatto con un altro tipo di farina. E anche quel pane che mangio io è una cosa di cui non mi riesco a privare. Perché comunque, l'ho sempre detto, essere vegani ci vuole una forza di volontà della Madonna, più che essere vegetariani, che già all'inizio è molto difficile essere vegetariani, perché comunque, e vuoi o non vuoi, noi l'odore della carne, dall'odore della carne siamo attratti, dall'odore dei, degli affettati siamo attratti. Infatti, delle volte, io non ho mai ceduto, però delle volte dico cazzo quanto è buono sto odore. Magari quando mia mamma si fa la salsiccia, madonna quanto è buono sto odore. E io sono lì che mangio i fagioli, capito? Però è anche vero che se uno ha forza di volontà ce l'ha fatta, io ce l'ha fatta anche voi, se volete diventare vegetariani. Poi non voglio diventare vegana per un altro fatto. Io dono il sangue. Dono il sangue, ho le esame sanissime, sono sanissima. E il mio dottore mi ha detto che una persona come me, se diventa vegana, non può più donare il sangue. Quindi, io sono dell'idea che io voglio aiutare il prossimo, dando il meno, dando il fastidio il meno possibile al pianeta, facciamo così. Quindi, io per aiutare il prossimo e per dare meno fastidio al pianeta, non posso diventare vegana, perché sennò darei meno fastidio al pianeta, però non aiuterei il prossimo. Quindi, devo cercare una via di mezzo, facciamo così in modo semplice. E questo video era improntato anche per volervi raccontare il perché io sono un'andata vegetariana. Allora, innanzitutto mi scuso con una persona che pensavo mi volesse attaccare, invece non mi ha attaccato e ultimamente vengo sempre attaccata da tutti, quindi l'avevo presa come un attacco. Ti chiedo scusa, non so, non mi ricordo bene com'è il tuo nickname, però lo scrivi qua sotto, se ancora mi segui. Allora, io sono andata vegetariana a 14 anni. Perché? Perché io trovo abbastanza stupido avere un cane vicino e mangiarmi un animale. Cioè, io trovo abbastanza stupido, questo è il mio parere, dire che ci sono degli animali che sono nati per essere mangiati e degli animali che non sono nati per essere mangiati. Cioè, io lo vivo del senso, ma chi sono io per decidere della vita altrui? Ci sono molte persone che mi hanno risposto, gli animali non sanno decidere. Il mio cane sa decidere tra una bistecca e le sue crocchette. Sa decidere cosa vuole. Il mio cane sa decidere se vuole dormire o andare a fare un giro. Il mio cane sa decidere se vuole dormire al suo palimento oppure sul divano. Quindi non è vero che gli animali non sanno decidere. Gli animali quindi io trovo abbastanza poco coerente questa cosa qui. Poi se c'è una persona che dice però io della carne non riesco a rinunciarci e non ci posso fare nulla. Io sono dell'idea che ognuno deve mangiare quello che vuole. Se io non rompo a voi, voi non dovete rompere a me. Perché si può coesistere benissimo. Tu ti mangi l'auto bistecca e mi mangio la mia insalata. Come vi faccio vedere, io devo ancora finire di mangiare i miei fagioli. Però sono piene quindi non ce la faccio a finirli. Si coesiste benissimo. Poi col tempo, quando una persona diventa vegetariana col tempo, io ormai sono quasi sei anni. Mancano più o meno, cioè, mancano più o meno due o tre mesi e sono sei anni. Quindi dopo tu non ci fai neanche più l'abitudine. Cioè vi faccio un esempio, è una stupidaggine. Molte volte quando vado io a fare la spesa non penso neanche di comprare la carne per i miei genitori o l'affettato. Perché per me è un po' stupido da dire questa cosa qui. Però siccome io non la mangio, mi dimentico anche di comprarla, c'è questo qui il fatto, ok? Perché dopo diventa automatico non comprarla, non mangiarla diventerà molto più facile rispetto ai primi mesi, i primi mesi insomma, di cui si è presa questa scelta. Infatti io conosco molte persone che i primi mesi non sono riusciti a passarli perché erano costantemente, avevano costantemente bisogno di mangiare carne. Io vi dico soltanto che per mia esperienza il vostro corpo si abitua. ci vuole del tempo ma si abitua. Io sinceramente sono molto felice di aver preso questa scelta di non mangiare carne perché come ripeto io penso di non essere nessuno per decidere della vita di un animale, della vita di una persona in generale. Quindi c'è soltanto la morte deciderà della vita di una persona. Io non so nessuno, non ho nessun potere per decidere della vita di un altro essere vivente, che può essere un cane, un gatto, una persona, un uccellino, una formica. Non so nessuno assolutamente. Ed è per questo che io non ho visto video, non ho visto qualche video, no mi correggo, qualche video l'ho visto, però non ho visto dei video riguardanti, non ho visto molti video riguardanti i macelli perché vedere che gli animali sono trattati così e mi viene voglia di andare a prendere a puni tutti quanti quelli che sono presenti nel video. Non i macellari in generale perché ognuno fa il lavoro che gli capita. Certo che se devo io andare a lavorare con il macello non ci vado. Però ho visto parecchie cose sul festival di Yulin, questa è una cosa che io non capisco, cioè nel senso tu cinese di merda, scusate quelli che mangiano i cani per me sono cinesi di merda, sono persone di merda, non chi mangia gli animali, quelli che mangiano... pur di continuare questa tua tradizione, se finiscono i cani che tu hai rapito fai mangiare e uccidi il tuo cane. Ma stai scusate, ma tu stai fuori di testa. Voi state fuori di testa cinesi che mangiano i cani. Infatti io è proprio una cosa che non tollero e ho anche fatto un video dove appunto c'è una petizione da firmare per fermare queste cose. Qui nel 2016 o nel 2015 ci siamo riusciti a fermare questa cosa. Poi dopo, l'anno scorso purtroppo no, cioè quest'anno in realtà, perché questa è una cosa che succede ogni 20-21 giugno. Speriamo di riuscirci per gli anni a venire, perché comunque per una tradizione del cavolo tu metti, tu fai uccidere un tuo animale, che per me, ragazzi è brutto da dire, per me il mio cane è un mio familiare, cioè è come che non è una cosa inconcepibile, cioè nel mio ragionamento per me è una cosa inconcepibile. Poi dopo voi direte, ma anche noi abbiamo le nostre tradizioni, noi mangiamo degli animali che loro non mangiano. Per me, per come la vedo io. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole. E per come la sto vivendo io, perché io da cinque anni, quasi sei, sono vegetariana e sto benissimo. Si può, secondo me chi può, chi se lo sente, chi può fisicamente non mangiare carne, per me ci dovrebbe rinunciare. Per il semplice fatto che, uno, salvaguardi il pianeta, due, diciamo che tra più o meno 40-50 anni si dice che non ci sarà più carne, ok? Quindi tu fai dei bene anche per le persone che vengono per il futuro. Io penso che poi ognuno deve essere libero di scegliere, cioè nel senso io non sono nessuno per imporre all'altra persona quello che deve fare o non deve fare. Io scelgo per me. Infatti la carne non la mangio. Però io vi invito ad andare a vedere quello che succede nei macelli. Perché voi dovete ricordarvi che quando vi trovate la bistecca sul piatto dovete capire quello che ha subito quell'animale per darvi una bistecca. Cioè una cazzo di bistecca ci sono gli animali che vengono maltrattati. Lo può stare nella vostra coscienza, se vi sentite la coscienza a posto oppure no. Questo non è un video di sensibilizzazione, però è un video che sinceramente non mi sentirei con la coscienza a posto sapere che mi sto mangiando una bistecca e sapere quello che ha passato quell'animale. Io parlo per me. Poi è un consiglio che vi do. Se voi non volete seguire o non lo seguite, facciamo ora lo stesso, nel senso voglio bene lo stesso, ok? Questo è un po' la mia storia e quello che penso per i vegetariani e i vegani. Per me i vegani sono un po' troppo estremi. C'è anche da dire questo, per me i vegani sono proprio troppo estremi. E poi ci sono anche degli altri fattori che se tu non hai una dieta vegana o vegetariana fatta da un dietologo rischi anche la vita. Infatti la mia è fatta da un dietologo, quindi ha un senso. Quindi se voi volete diventare vegani, vegetariani, fruttariani, quel cazzo che volete, dovete farvi fare una dieta da un dietologo. Ma da un dietologo che sia abbastanza bravo, non da prima che passa per state e dici ciao sono un dietologo, no. Che sia molto bravo, ok? Ok? Anzi no, volevo dire un'ultima cosa. Io non sono abbastanza informata su il fatto che si può portare avanti una dieta vegetariana anche quando si è incinta. Se volete vi informo e poi ve ne parlo in un video. Facciamo così. Vi va bene come idea? Ciao a tutti comunque. Bye, ciao. Ciao a tutti.